Oggi parliamo di ansia e iperventilazione. L'altro giorno una ragazza mi raccontava che mentre era tranquillamente in macchina ha avuto un improvviso attacco di panico. Tanto che ha dovuto accostare, ma la cosa che l'ha preoccupata di più è stata una forte difficoltà respiratoria. La sensazione era quella di non riuscire a respirare, di soffocare. In questa situazione sicuramente si saranno trovate molte persone che soffrono di ansia o di attacchi di panico. Quando si soffre di ansia, infatti, tra i sintomi diciamo più frequenti, uno di questi è proprio quello dell'iperventilazione, oltre naturalmente ad altri sintomi tipici. Però diciamo che questo sintomo è uno di quelli, insieme magari al battito cardiaco accelerato, che spaventano maggiormente. La spiegazione è molto chiara. Con questo sintomo la sensazione di svenire o di morire viene percepita naturalmente in modo smisurato. Mi sento però di tranquillizzare, perché l'iperventilazione non è qualcosa di grave o che mette in pericolo la vita della persona. È sicuramente una sensazione spiacevole da riconoscere, ma è qualcosa di affrontabile e gestibile attraverso alcune strategie. Quello che succede al nostro organismo è un'alterazione tra l'ossigeno e l'anidride carbonica. Viene prodotto più ossigeno, quindi il nostro cervello lavorerà per abbassare il livello di ossigeno. In che modo? Riducendo il numero di respirazioni. Per questo cercheremo di vedere un esercizio utile per gestire l'iperventilazione. Ti espongo ora un esercizio facile facile che puoi provare subito. Allora, mettiti comodamente seduta in un angolino o seduto e prendi un respiro profondo. Trattieni il respiro per 10 secondi ed espira lentamente con il naso. Ispira di nuovo profondamente, trattieni per 10 secondi ed espira nuovamente con il naso. Questa respirazione la devi ripetere almeno per un minuto e mezzo barra due minuti. Ovviamente il consiglio è quello di allenarti con questo tipo di respirazione ogni giorno per non farti trovare impreparato o impreparata.